Matteo Fedele è autentico mattatore di questa partita, una vittoria importantissima per il Bari, è arrivata al termine di una partita combattuta. Alla vigilia si era detto che il Bari era in emergenza, in campo non si è visto. No, non si è visto perché siamo tutti pronti. Anche i giovani che oggi sono entrati in campo sapevano cosa fare, hanno dato tutto e sono contento per tutta la squadra che abbiamo portato questi tre punti a casa. Due gol importantissimi, naturalmente alla luce delle tue origini irpine non posso non chiederti anche un'impressione sulla squadra bianco-verte. No, no, ma ogni partita che sia l'Avellino che sia la mia ex squadra do sempre tutto, quindi ripeto sono contento di tutta la squadra perché abbiamo dato magari qualcosa in più oggi, un 10% in più che ci ha aiutato a vincere. L'Avellino veniva qui al San Nicola, voglioso di portare a casa una vittoria importantissima, ha trovato all'altra parte un Bari determinato dal primo fino al novantesimo che non si è neanche disunito dopo il gol arrivato in chiusura di primo tempo. Certo, perché anche al primo tempo ha chiesto al mister di non mollare niente, che tutto è possibile nel calcio, quindi l'abbiamo ascoltato molto bene, abbiamo dato qualcosa in più per portare a casa questa vittoria.